Attenzione ai finti vigili del fuoco. A Verbagna si sono verificati alcuni tentativi di truffa da parte di persone che si presentano alla porta di casa di un'azienda e chiedono un aiuto economico per l'attività del numero di emergenza 112. Il comandante provinciale Felice Irakà lancia l'allarme. Sempre con maggior frequenza si verificano casi di persone che si spacciano per appartenenti al comando provinciale e chiedono donazioni sia per l'attività di emergenza che per vendere riviste. Un altro caso si è verificato pochi giorni fa. La raccomandazione è di non aprire la porta a nessuno e di chiamare le forze dell'ordine. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non è autorizzato a riscuotere denaro a domicilio ma solo ad offrire servizi nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Un caso di dubbio contattare il comando provinciale di Verbagna. Se si è vittima di truffa non bisogna avergognarsi ma chiamare subito polizia e carabinieri. Anche i Vigili del Fuoco sporgeranno denuncia per evitare che si ripetano nuovi casi.